In posizio, set, forza guida, posizio, set, forza guida posizio, set, forza guida, 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 posizio Il gruppo è posto in tre attivi, la prima parte di un passato, la prima parte di un passato, la prima parte di un passato, la prima parte di un signore di 42 e di 92. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seconda batteria. In posizione, set. La prima bassa partenza per il concorrento 580. Sì. Bene, questa volta la partenza per il concorrento della batteria. Il gruppo che curva in questo istante, vediamo l'uscita per la malattia finale sul preguardo costruistivo. e che la loro spinta andiamo a dare un regalo in questo momento e consegnare un'impermettiva di 35 e di 29 D position Z 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